alla otto location e su questa location che si basa prettamente il mazzo che andremo a utilizzare oggi e so per certo è quando molti di voi vedranno il mazzo, anzi penso tutti cioè tutti voi che vedono il mazzo direte tutti in coro e molto allegramente che cazzo è sta merda? fatemi sapere qua sotto che mazzo stavo utilizzando e se pensate domani di andare a sperperare qualcosina in quelle spot che vedranno Red Guardian come protagonista però vi consiglio di vedere il video fino alla fine perché sono successe veramente tutti i colori tra scam, matti completamente senza senso cioè il mio è un mazzo senza senso tra te però è per questo che rende tutto un po' più pace buona visione dunque la situazione è questa qui, siamo a 2.598, la otto location è ala quindi in qualche modo dovremmo andare a sfruttarla per fare qualcosina di diverso il mazzo è questo qui, non ha senso, o meglio ce l'ha, ma vi spiego nel senso, ora vedete tutte queste carte sembrano buttate qui a buffo ora abbiamo due carte per rampare che sono Psammer ed Electro con Electro ed ala si può fare una grande cosa perché abbiamo il turno 4 a disposizione in cui ci sono le carte che si distruggono, ok? quindi a me già è venuta la brillante idea di fare in qualche modo la Quake switch alle location per andare a distruggere Electro oppure possiamo andare a distruggere Electro sempre con l'ADD perché sfruttandola al turno 3 noi abbiamo già 5 di mano al turno 4, ok? quindi possiamo andare a distruggere Electro sempre però dobbiamo averla in mano poi in qualche modo andremo a giocare in base a quello che noi abbiamo bisogno ok? perché abbiamo Shadow King, Touch Card abbiamo Avok, raga Avok di turno 5 se noi riusciamo a sfruttarlo di turno 5 fa una scarlata di punti perché è una 2-8 diventa una 2-8 quindi in qualche modo, visto che abbiamo anche due carte per poter rampare cioè non è malaccia l'idea, ok? trastate però, ok? abbiamo anche Baron Zemo così a buffo proviamolo, proviamolo subito, vai? vi faccio vedere cosa può regalare questo mazzo ma vi posso considerare che ho fatto dei game abbastanza validi io dico solamente una cosa dategli una possibilità perché può stupire ora, guardate Nebula subito di turno 1 Londra di sinistro, subito molto worth, ok? Nebula con la doppia Nebula è veramente molto bella da fare, ok? quindi già la location ci ha graziato poi cosa ci possiamo inventare noi? Avok noi non vogliamo fare il turno 1, ok? il turno 2 perché cosa vuol dire che noi andremo a giocare tutto il tempo con due di mana Cable, ok? io mi immagino al ragazzo che ha utilizzato il doppio Cable e si ritrova due carte del mio mazzo e dice, ma che cazzo so? Superflusso è molto buono molto buono considerato che è molto buono ledd, insomma vogliamo utilizzare baronzimo? il doppio baronzimo? non sarebbe male l'idea, eh? posso trastarlo? posso trastare il processo? andiamo sperando che baronzimo mi vada al centro e non sul superflusso anche perché, boh, insomma non sarebbe... ok, lui toglie ala perfetto allora, la cosa con Electro non la facciamo anche perché spero che gli abbia dato proprio Electro comunque se posso dire la mia Nico Minoro bello ok bello bello bellissimo questa cosa questa cosa è stupenda Spaderemma poi al cazzo molto bella anche perché avrebbe preso Reddulc, eh? da non sottoprotare questo aspetto no, Electro è qui cazzo e lui le ha potuto dare il Profix le ha potuto dare che ne so Jeff capito però noi lo possiamo fregare in qualche modo con Legione lo possiamo fregare con Legione adesso lui snappa lui snappa perché lui deve snappare ok noi non possiamo giocare la DD che non possiamo giocare la DD io temo che lui abbia un Profix quindi andrei ad occupare sta parte no, vabbè facciamo Legione facciamo Legione qui facciamo Legione qui quindi togliamo tutto togliamo Limbo esatto DocHawk perfetto cazzo questa situazione non doveva succedere perché noi adesso abbiamo solamente uno slot e questo slot è il Profix che non possiamo utilizzare non lo so come può vincere sto game il ragazzo però, eh? lui ha sette carte cioè ha tutte le carte in mano ha tutte le carte in mano utilizza Shang ok, qui e poi? dici tu con Red Hulk potrebbe farcela io la trasto comunque perché alla fin fine noi abbiamo dei punti abbastanza considerevoli in tutte e tre le location lui dovrebbe in qualche modo fare robe magiche con la Londra di sinistro però diciamo che c'è Avok che fa punti c'è Nebula è la doppia Nebula che fanno punti e ci portiamo anche due punti a casa lui dovrebbe giocare in tutte le location potrebbe farlo visto che c'è sette carte in mano sì potrebbe potrebbe lui c'era solamente una carta ma è il turno 5 non era non era il turno decisivo ok vabbè però guarda poteva andare molto peggio nel senso Gladiator poteva andare qui e prendermi Shadow King che mi resettava tutto pensare pensare in questo modo come vince lui? come può vincere? cioè io gli la trasto comunque io gli trasto il processo anche perché c'è un altro turno in cui Avok ti va a fare le sue cose lui prende la mia carta Shang ha preso il mio Shadow King cioè lui ha vinto con la mia stessa carta cioè cosa ti fa pensare questa cosa? cosa ti fa pensare questa cosa? è che questo mazzo la pimpine in qualche modo ha un senso logico molto strano però ce l'ha cazzo era vinta frate era vinta era vinta che cazzo mi snappi? cosa abbiamo detto in inizio del video? rispetto per il ragazzo ok perfetto Red Hulk si buffa a me va va molto bene questa cosa Asgard ok Asgard va bene Asgard guarda che se tu mi dessi la Quake io ti potrei fare robe magiche con la Quake sai io ti potrei fare robe magiche al turno 4 con io allora invisible woman quindi è un Ela teoricamente è un Ela teoricamente si Baron Zemo? no perché Baron Zemo? Baron Zemo lo fai qui tu mi sa che devo dare priorità a Hope Summer mi sa Magic si dovrebbe essere teoricamente un Ela con Modok teoricamente dovrebbe essere questa la Play però noi possiamo fare robe con la nostra uuuu ehi ragazzo vogliamo trastare il processo molto buono anche perché io me la vorrei tenere ok Crystal va bene perfetto perfetto fuori dal cazzo invisible woman è molto bella questa cosa quindi se è un Ela le abbiamo smontato i piani teoricamente però c'ha Crystal può essere un vivente cioè nel senso un Ela con il vivente sicuramente e abbiamo legione raga abbiamo legione abbiamo legione abbiamo legione io in qualche modo vorrei sfruttarlo legione potremmo fare profix qui ok poi in qualche modo vado ad avere 7 di mana io gli contro snap io gli contro snap cazzo me frega poi teoricamente se lui butta Iron Man non gli buttiamo la ID capito ok perfetto lui gioca lì noi abbiamo il nostro profix lui gioca ah ah ok infinauta ma slout Iron Man Crystal Robbe con la Jubilee perfetto cosa molto buona e importante se lui ha preso Ela vince ha un 33% di possibilità che lui ha preso Ela lui ha 5 carte a disposizione infinauta slout Crystal Jubilee Iron Man ok però se gioca Ela lui ha solamente 4 slot vediamo pure Red Hulk guarda te lo posso accettare anche perché poi poteva andare peggio perché poteva prenderla vero però boh frate insomma un po' insane questa cosa mi hai tolto gli 8 cubi dalla madre te lo stavo vincendo allora nel senso se io ti vinco con questo mazzo qui tu capisci che hai dei problemi se io ti vinco con questo mazzo lo sappiamo per certo sappiamo tutti questa cosa ok lo sappiamo tutti noi Angela ok Angela ci abbiamo shadowking nel mazzo ok vedi 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 come è reattivo il mazzo per tutte le le evidenze e ole Summer devo cercare di chiudere devo cercare di chiudere il più possibile Summer col Profix con Robbe devo cercare di chiudere e guarda io potrei fare una roba potrei fare Avok Nebula Summer ok oppure io ti potrei fare io ti potrei fare una roba nel senso io ti potrei fare Baron Simo no io la voglio trastare il processo io voglio trastare il processo nel senso fare così fare così ok fare così e fare così oppure oppure no così poi in qualche modo vuoi switchare con il trono spaziale con con cosa con il Nexus lo puoi fare lo puoi fare lo puoi fare però intanto settiamo sta roba così che noi possiamo fare il Profix di turno successivo no ok ok perfetto e già abbiamo nove ok abbiamo nove in qualche modo quindi nessuno mi vieta a me di fare il Profix e chiudermi giusto vediamo vediamo se succede vediamo se succede un qualcosa di incredibile visione sai che tu non vinci sai che tu non vinci questa roba perché Avok alla fin fine Avok che fa Avok ti prende un altro più 4 quindi lui dovrebbe vincere avendo solamente Jeff se a Jeff lo fa se no non vinci capito quanto è forte Avok e io questa frase non avrei mai pensato di dirla apertamente al pubblico o anche a pensarla sta roba comunque avete visto il punto è questo il mazzo va a essere utile per le evenienze delle giocate capito cioè non c'è una tattica di per sé o meglio sì però si lega anche la alteration Bardi Luke comunque è molto worth per il nostro Electro e fino a qui non ci piove però possiamo dire che possiamo fare delle puttanate con le giorni che si possono veramente fa quake ok abbiamo tutto quello che ci serve abbiamo tutto quello che ci serve il campo che dà Sauron sì Sauron potrebbe essere worth perché mi rimuove l'abilità di Electro questo sì ma mi rimuove anche il profix col profix io potrei andare a chiudere il Bardi Luke ci sono idee ci sono idee tanto Electro e worth e lui gioca lì ok che giochi x23 e Hulk Buster sì ok va bene e guarda io vorrei tentare di fare il profix qui ma se poi x23 mi va sul Bardi Luke io a chi gliela racconto sta roba potrei fare la quake e Jeff vediamo più che altro vediamo dove va x23 e andavi in mezzo ragazzo lo devo fare il profix lo devo fare il profix perfetto Electro ci saluta ok Electro ci saluta e questo è il funzionamento di quello che deve essere la hot location ok tu adesso hai un botto di mana in più giusto che puoi andare a sfruttarlo come lo sfrutti tu lo sfrutti con oddio c'è legione frate c'è legione e io sai che cosa vorrei fare io vorrei fare il profix cazzo a cavararmi sta location il problema è come la vinco io poi come la vinco poi mi dovrebbe capitare Red Hulk in qualche modo che no no oppure Shadow King che no no e profix dai prova nico minor carnage non mi andrà a sinistra capito non mi è andata a sinistra x23 puntualmente mi va a sinistra io ora io non voglio dire cose inerenti a azioni politiche però per te fai veramente vomitare porco di un però c'ho Shadow King però c'ho Shadow King ho Shadow King e teoricamente io qua sono a posto è qui che non vinco è qui che non vinco mai e potrei anche fare balonzimo tentando di prendergli qualcosa di interessante ma insomma mi sa che è una puttanata proviamola è una puttanata cioè neanche con Death vinco io Death Pool a posto cioè se avessi vinto sto 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 robbo avessi vinto questo io avrei vinto tutto il rovescio ma ti rendi conto io che cosa devo fare che cazzo mi fai il porco di un io ti dirò le cose te te mai bisogna un attimo ricomporsi bisogna un attimo ricomporsi perché alla fin fine ci sta devi accettare la sconfitta perché dove c'è la vittoria c'è la sconfitta tu non puoi vincere tutte le partite tu devi essere migliore e portare il rispetto giusto? oh clientele è buono clientele è molto buono e però guarda miniera collassata va bene tanto io dovrei dovrei skippare completamente facciamoci l'ultimo game vai ti do giusto un'altra un'altra occasione per essere convinto appieno di giocare questo mazzo Shadowland vabbè non è un problema a riguardo e Opsummer a questo punto Opsummer ti direi anche di fare elettro elettro sul clientele io me lo potrei anche accollare sta roba il problema è che se lui mi switch con la magic ma penso che l'avrebbe già fatto adesso giusto? quindi nessuno a me vieta di fare nebula elettro e vai con dio ok il giocare non gioca lui perfetto 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 Angela ok occorre Shadow King occorre Shadow King in una maniera abnorme e io non so perché lui ha giocato questa roba però guarda e posso dire di voler fare anche oddio legionare il bro ma se legioni il bro no raga mi sta vendendo un altro idea in testa di legionarlo con legione con la miniera collassata non so quanto potrebbe essere bello fare sta roba non lo so oppure che cosa posso fare oppure posso fare il profix che ne so tipo qui fare Jeff e prendere un botto di roba prendere un botto di roba si potrei farlo proviamo lui gioca tra l'altro che gioca Kraven non basta non basta non basta non basta non basta dove la porti ok a posto aspetta ora lui che può fare qui può fare visione la cosa che può andare bene a lui è che fa visione avok cazzo avok è un problemino avok è decisamente un problema o l'aprio no no l'aprio perfetto quindi potrei fare l'unica cosa che mi viene in mente di fare è fare questo baron zimo ledd praticamente dovrebbe essere una bella ma dico bella play perché se lui gioca a visione visione va a 10 va a 14 punti anzi 16 punti 16 punti ipotizziamo va a 16 punti lui perché Elsa e il ninja bisogna dirlo e penso che sia la carta più forte che lui ha oppure a magneto vediamo trastiamolo così dai trastiamolo con il baron zimo teoricamente non dovrebbe avere quello che dico io Miles Morales ok e bisogna lì perfetto quindi teoricamente così ok qualsiasi carta qualsiasi mi devo fare l'ultima tutta colpa del tuo mazzo di merda anzi giusto giusto della sua carta capito giusto giusto della sua carta che gli ha permesso di fare Miles Morales a 1 giusto giusto della sua carta vabbè che ha giocato anche Jeff però dettagli sono questi questi sono umilissimi dettagli comunque vediamo se si può fare in qualche cioè io io sto venendo scammato io sto venendo scammato da tutto cioè io mi sento veramente scammato in questi game cazzo cioè non è possibile che una persona mi può giocare attorno a questo mazzo cioè è la prima volta che lo vedo io questo mazzo teoricamente e Opsummer si gioca Opsummer si gioca si gioca anche Jeff poi vedo si gioca anche Jeff e in qualche modo tenti di fare delle robe ripare Electro molto meglio così anche perché insomma giocare Electro non è mai una roba semplice poi non abbiamo neanche delle location interessanti per giocare Electro Miss Marvel cioè questo è ancora dove sei rimasto per giocare Zabu in tu Miss Marvel fratello io non voglio giudicare figurati cioè non è da me giudicare le persone e Avok e Jeff no poi Jeff lo sposti su Culluna sei tutto molto più contento in qualche modo dovresti avere la situazione in pugno giusto teoricamente è una bella play questa poi potresti anche pensare di fare Baronzimo eh in qualche modo però c'è l'ID l'ID la vorrei usufruire oppure Red Hulk io non posso togliergli quella Miss Marvel cazzo io non c'ho una touch card per quello non c'ho una touch card per quello cazzo Avok perfetto si prende più 4 con calma c'è Red Hulk che si può usare adesso giusto a pennello perfetto potremmo anche usufruire di Electro con eh si però non conviene non conviene per niente e guarda che se la Lady mi distruggeva le carte a 4 poteva essere molto worth questa cosa e però oddio Zabu eh può dire la sua Red Hulk qui devo giocare Red Hulk dai devo giocare Red Hulk è l'unica carta a 6 poi non mi interessa sta roba e Loki bella roba bella roba con Loki molto bella roba con Loki io devo sperare che cosa io devo sperare che lui non abbia robe inerenti a questo io non posso giocare a Rob cioè Shadow King è inutile giocarlo giocare la Quake a questo punto dai giocare la Quake qui e chi si è visto si è visto guardare Manforte boh teoricamente è una bella play pure questa gli vado a togliere Shang cioè se lui utilizza Shang sul mio Red Hulk in qualche modo vado a compensare tutto ora te la scelta che lui ha le mie stesse carte quindi potrebbe usufruirne in qualche modo con che cosa? con le ID al centro? praticamente che cazzo ne so cazzo potrebbe avere Shadow King però eh potrebbe avere Shadow King potrebbe avere pescato Shadow King sì vero molto vera questa cosa Hubsummer Jeff Electro cazzo Avok non basta fratello Wart ora parliamoci chiaro il deck è strambo ok ma dategli una chance adesso che c'è l'autologation tanto poi alle 20 anzi alle 21 se ne va quindi avete tutto il tempo di farci almeno un game provatelo provatelo in qualche modo se c'è vedere di Avok queste carte strambe buttateli in mezzo in questo mazzo qui vi vedete sempre divertiti anche con i mazzi strambi bello a a a